Scavalcavano le recinzioni delle abitazioni, dei condomini tentavano di scassinare le auto. Hanno rovistato dappertutto, uno faceva il lavoro, l'altro fungeva da palo, controllava che nessuno potesse arrivare. Una vera banda, già conosciuta le forze dell'ordine, a segnalare i movimenti sospetti alcuni residenti. Durante una passeggiata con il cane mi sono resa conto che vicino alla macchina grigia c'era una persona che stava palesemente cercando di forzarla e alla fine è anche riuscito ad entrare e fuori dalla recinzione c'era un altro ragazzo che faceva da palo. Sul posto sono arrivate subito due volanti, i minorenni stavano cercando di fuggire tra via Sarpi e via Inaudi ma sono stati bloccati dagli agenti e portati in questura. Hanno sostanzialmente fermato queste due persone perché nel frattempo avevano scavalcato la recinzione, erano passati in via Inaudi e da via Inaudi erano tornati dietro questo palazzo in via Sarpi e in questo parcheggio di fronte li hanno intercettati. Volti già noti, non è la prima volta che vengono pizzicati, per loro è scattata una denuncia per tentato furto aggravato addirittura di una macchina. I due ragazzini italiani sono sospettati anche di aver compiuto qualche eruzione nelle case. La polizia sta indagando per accertare alcuni colpi proprio nella zona tra Sant'Angelo e San Zeno a Treviso. I residenti sono preoccupati, in più occasioni sono stati visti questi ragazzini girare fra le vie intorno alle case. Qualcuno parla di quattro giovanissimi ma per il momento sono stati bloccati solo loro due. I genitori dei due sono andati in questura a prenderli. Erano disperati, raccontano gli investigatori. Certo è che la loro carriera criminale, nonostante l'età, è già piuttosto lunga. C'è paura ora tra i residenti? Sicuramente sì, anche perché si è svolto tutto alle dieci di sera, quindi non era assolutamente notte fonda. Purtroppo il territorio è sicuramente presidiato dalla polizia, però non possono essere ovunque. Per fortuna sono comunque intervenuti nel giro di un minuto, un minuto e mezzo e sono riusciti comunque a intercettare le due persone. Grazie. Grazie. Grazie.